Le prime impressioni con questa nuova moto sono state positive, mi è piaciuto l'impostazione di guida e il motore che è veramente molto performante. Ci sono ancora delle piccole cose che devo scoprire e conoscere su questa moto e penso che con i prossimi test andremo più a fondo e cercheremo di equilibrarla più per il mio modo di guidare e penso che è una moto che ha un grandissimo potenziale e possiamo affrontare una stagione molto positiva. Le sensazioni sono buone e positive, l'attesa sembra interminabile, non vedo l'ora di scendere in pista e di confrontarmi con tutti i miei avversari. Mi sento pronto, mi sono preparato bene quest'inverno e vediamo di sfruttare al massimo il potenziale di questo team ufficiale e di questa moto e vediamo dove ci porterà.